Invece, come faremo, avevo tre o quattro domande a chi vuole dire. Io la ringrazio molto perché è quello che io stasera appunto vi dicevo all'inizio, cioè il bisogno di andare più in profondità, la trattata la truccità di varie metodologie rispetto ai sommaggi, è terribile questo, mi sono visto come un incubo, d'altro pensavo anche a qualche personaggio che qua in un momento ci sta utilizzando e governando e vedevo una serie di corrispondenze diciamo abbastanza interessante, però alla fine è profonda, perché è la fine della cosa, speriamo che non ha tanto tempo. Benissimo, allora io però non vorrei togliere la parola, quindi chi è interessato a fare un... direi di raccogliere due o tre domande e poi tutte insieme e poi diamo la replica finale a Fusione Devevo. Prego, una qui. Sì, grazie professor, siamo avanti per tutti gli scuri naturalmente, raccolgo velocemente, fai due elementi... domande all'inglese, scusate, mi raccomando che siamo anche in casa. Grazie. L'aspetto riguarda quanto la conoscenza delle neuroscienze c'è negli analisti di Boste nell'economia, tenuto conto di come si lavora molto sulle aspettative e di quanto anche la percezione influenzi i nostri modelli capitalistici. E quindi quanto sta pesando anche in questo momento la percezione sugli effetti dell'attività. Un altro aspetto invece riguarda tutti i trend evolutivi della nostra mente. Cosa ci dice la ricerca attuale? È una posizione anche, se ciò si può dire, anche c'è in visita così da parte mia, nel senso che lei sottolineava questa polarità, questo polarismo tra tendente a nastrarsi e l'altro lato la concretezza, da un altro lato l'emotività, dall'altro la razionalità. L'uomo internetiano, in effetti, tende più verso l'astrazione delle emotività o verso l'azione di analisi e la concretezza. Penso per esempio al saggio di Sennef che nell'epoca di internet si scrive un saggio sull'uomo artigiano. In questa polarità, ecco, qual è la strada che sta valendo o tende a prevalere? Un ultimo flash che mi è concesso riguarda proprio la società televisiva, utilizzando la definizione di due clienti. Una società che dovrebbe essere attenta non tanto è solamente all'individualità, quanto alle biografie, quindi al vissuto di ciascuno. Come mai non siamo riusciti a elaborare dei modelli di previsione più forti e ci siamo fatti sorprendere dall'anatrizio in una società abituata all'incertezza? Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie mille a cantare. Buonasera a tutti, Roberto Inca. Roberto Inca, sì. Lei ha parlato, professore, di un cervello etico. Quindi immagino sia un organizzatore mentale che pone, diciamo, vicino a una scala di valori in base ai quali si dirà tra un po' di comportamenti concreti. Ecco, la mia domanda è questa, la mia curiosità sorra a tutte le altre e per esempio che stanno su di scuola. Lo stato ipnotico riesce in qualche modo a far passare questa struttura mentale, questo cervello etico o nell'impatto che, cos'è che prevale, ecco certo, il valore etico o la manipolazione dalla parte di un sistema. Benissimo. Qualche altre domanda? Prego. I sondaggi, credo, in cui ovviamente le persone accolgendo e infatti una domanda sono indossi a dare una risposta. Se questo comporta poi in un tempo successivo un'azione, chi ha dato quella risposta in maniera devolmente forzata poi agisce di conseguenza oppure è libero e fa una cosa in mezzo? Mi ha molto colpito questa cosa che nella crisi regrediamo. La domanda è se questo lo possiamo usare per il momento. Allora, lei ha detto che il cervello nostro funziona sulla base visiva, concreta, emozionale e dentro il freno. Qualcuno dice, noi usciremo da questa crisi con modelli, diciamo, di promozione o di consumo di lavoro diversi oppure non usciremo con le ossa frutture. Allora, in questa paura che tutti hanno, i bani, i suoi, i consumatori, l'operai, ecco, quali sono i modelli che nella paura possono dare una vista di cose positive del futuro? Beh, il modello di lavoro che non è grande, io cittavo sempre come dire, ecco, l'idea dell'articiano l'abbiamo fatto scomparire il nostro. Ecco, l'idea della fabbrica è equivalente all'idea della fabbrica in frontista e probabilmente non sarà più la verità di domanda, insomma, no? Ecco, le emozioni che ci suscita la crisi economica ecco, probabilmente ci mettono nelle condizioni non solo di difendersi ma di fare delle cose attive. Insomma, questa regressione di cui l'hai parlato potrebbe essere una risorsa per progettare in 4 o 5 anni un modo di produzione un modo di consumo un modo di lavoro diverso avendo degli esempi concreti visivi vissuti, no? Noi siamo pieni di storie ecco, le cose del futuro sono numeri incomprensibili fiamme e ragionevoli storie false ecco, quello di cui noi sappiamo non è soltanto che ho trovato la borsa di New York oppure che probabilmente abbiamo una pandemia in attività ma gli esempi positivi quali sono? Molti degli imprenditori che hanno fatto delle cose straordinarie non riescono a spiegare che cosa hanno fatto molti dei lavori evolventi del futuro noi non sappiamo cosa sono il web designer il change manager il manager l'innovation quindi trovi un ragazzo e domani che cose non lo sanno non lo sanno lo sanno le scuole non lo sanno le scuole potremmo popolare questo mondo della crisi con esempi che facciano scattare in questo cervello immagini concrete visive emozionali e auto-box in qualche misura di cose che potrebbero appena fargli fare di più grazie grazie